Siagroup nasce da un'esperienza di circa 20 anni in materia di sicurezza, in materia di consulenza per le aziende, ovviamente occupandoci di sicurezza siamo finiti a toccare quello che è l'aspetto della formazione e soprattutto con il decreto 81 dell'addestramento e ci siamo resi conto di quanto l'addestramento sia decisamente importante per la sicurezza sul lavoro, purtroppo la mancanza di addestramento non fa sconti. A questo punto Siagroup ha pensato di andare incontro alle aziende creando un centro di addestramento mobile capace di raggiungere con la sua struttura la stessa azienda, lo stesso posto per la manifestazione e dare in questo modo una struttura sempre pronta con una camera fumi, uno spazio confinato e un castello di arrampicata per fare l'addestramento sui lavori in quota. Abbiamo per questo pensato di venire a partecipare a questa manifestazione Smart Safety Week, convinti che quello che proponiamo sia decisamente interessante, certi che comunque con le collaborazioni che abbiamo si possa fare un buon lavoro e con anche qualche novità che sicuramente avete modo di scoprire durante la manifestazione stessa. Grazie